Franco De Vellis, presidente della Polisportiva Molise, da pochissimo è venuto a mancare uno dei padri fondatori della Polisportiva, è un uomo che all'atletica molisana ha dato tanto, Tonino Bussone. È passata qualche settimana dalla scomparsa di Tonino Bussone e devo dire ancora, almeno per quello che mi riguarda, permane una sorta di incredulità, un personaggio così carismatico, così grande appassionato e grande esperto di atletica. Tra i primi atleti della Polisportiva Molise ci ha lasciato inaspettatamente e improvvisamente. Tra l'altro c'eravamo illusi che dopo il primo ricovero, anche in questa circostanza, era riuscito a superare queste difficoltà, questo virus. Di fatti le cose sono andate così, Tonino è stato dimesso, guarito dal Covid, però purtroppo sono intervenute delle complicazioni dovute a una polmonite pregressa che ce lo hanno portato via. Purtroppo, tra le tante cose, a parte ricordare Tonino per gli oltre 50 anni di conoscenza personale, è capitato in un momento molto particolare per cui non è stato possibile nemmeno onorarlo nella maniera più opportuna. E di questo ci riserviamo, diciamo appena le cose si normalizzeranno, di provvedere in maniera tale che una figura così importante per il movimento dell'atletica e per la nostra società venga onorata e ricordata nella migliore maniera, quella che merita. Quanto a suo avviso questa situazione influirà sul futuro dell'atletica leggera? L'atletica dal Covid subirà certamente un rallentamento nello sviluppo e nell'evoluzione. Si sono dovute attivare procedure a noi sconosciute, sono saltati diversi campionati, gli allenamenti dei ragazzi e quelli diciamo delle categorie giovanili sono notevolmente rallentati e vabbè per dire una, diciamo l'evento più importante dell'anno, le Olimpiadi sono addirittura state sospese e rinviate. Cosa dire? Certamente dopo questa vicenda cambieranno i comportamenti, cambieranno gli approcci, cambierà il modo di stare in campo, di relazionarsi con gli altri atleti, con gli allenatori. Certamente una stagione invernale che era partita in maniera brillantissima per quanto riguarda la nostra società con un'attività indoor che finalmente eravamo riusciti a programmare e per la quale abbiamo ottenuto lusinghiere risultati, quindi questa attività ormai, diciamo, per la maggior parte si è diluita nel tempo e si è persa. Quindi adesso dovrebbe ripartire l'attività agonistica sui campi e sulle corse su strada. Per quanto riguarda le corse su strada c'è l'incognita della partecipazione massiva, specialmente per gli eventi più celebrati, la nostra Marcia dei Misteri, la Sueggiù, per citarne alcune. Sono manifestazioni che prevedono un gran numero di partecipanti e quindi una certa contiguità nei rapporti. Per questo speriamo che l'allentamento dell'epidemia e quindi dei contagi possa consentire, nella seconda parte dell'anno, nell'autunno, di poter organizzare questi eventi che per noi sono motivo di orgoglio e sono anche motivo di sostentamento da queste attività. Tiriamo fuori delle risorse che ci consentono di portare avanti un'attività che, per quanto riguarda l'atletica, si sviluppa durante tutto l'arco dell'anno. Non ci sono interruzioni se non 15 giorni a novembre. Nel tempo avete ottenuto risultati di grande spessore. Quali sono gli obiettivi futuri della Polisportiva Molise? La Polisportiva Molise si è sempre distinta, da vent'anni a questa parte, per privilegiare le categorie giovanili. L'obiettivo è sempre il solito, è quello della ricerca del talento, ma noi spingiamo alla pratica sportiva che sono stati attività, indipendentemente dal loro valore, anche prospettico. Quindi siamo aperti a tutte le iscrizioni, privilegiando quelle delle categorie giovanili. Abbiamo alimentato e abbiamo investito nei centri di avviamento allo sport, che sono attività riservate ai principianti, quindi ai ragazzi dai sei anni fino ai dieci. Quindi in questi settori, in questi vivai, riusciamo di tanto in tanto a pizzicare il ragazzo o la ragazza che ha delle doti particolari. La nostra attività, per carità, si sviluppa attraverso tutte le categorie, però se andiamo a vedere lo spaccato di queste partecipazioni, l'attività principale si concentra nelle categorie ragazzi e nelle categorie allievi, quindi nelle categorie cadetti. Quindi nella fascia di età che va dai tredici anni ai sedici, diciassette. Quindi in questa fascia di età abbiamo il maggior numero di tesserati e siamo naturalmente predisposti a privilegiare questo tipo di partecipazione.